Guarda il mondo dove vivi. Vedi questa vasca? Ci sono dodici pesci, dodici mondi. Però la vasca è una sola? Molte. Quella che vedi tu, quella che vedo io. È il mondo di ciascuno. Il mondo in cui tu vivi è misterioso, eccitante, sconosciuto. E il mio è più vecchio, familiare e calmo. Non conoscerai mai il mio mondo, né io il tuo. Mai. Puoi forse vedere con i miei occhi? Pensare con il mio cervello? Ma maestro, voi siete unito all'universo e io a voi. Sì, siamo uniti. Eppure non siamo la stessa cosa. Dieci milioni di esseri viventi hanno altrettanti mondi diversi. Non devi vedere te stesso al centro dell'universo, saggio, buono e bello. Cerca piuttosto la saggezza, la bontà e la bellezza, per poterle onorare dovunque.